Continua purtroppo ad allargarsi il focolaio all'interno della casa di riposo Fossombroni, conosciuta dagli aretini come Casa Pia. Altri due anziani infatti sono risultati positivi al Covid-19 e questo fa salire il totale a 38 ospiti ai quali vanno aggiunti poi anche 18 dipendenti anch'essi con il virus. Per i due residenti da precedenti controlli era stata evidenziata una bassa carica virale. Adesso l'esito ha evidenziato la positività di entrambi, per tutti gli ospiti positivi sono state già comunque attivate le procedure di trasferimento nelle strutture di cure intermedie dell'Asla Toscana Sud-Est che termineranno nella giornata di venerdì 5 febbraio, mentre nel frattempo sta proseguendo anche l'assistenza continua e costante in un settore isolato della casa di riposo dedicata al Covid-19. Nel fine settimana infine è previsto un ulteriore ciclo di tamponi per continuare a monitorare la situazione degli anziani dell'istituto di Piazzetta Faenzi che negli ultimi test erano risultati negativi.